Innanzitutto benvenute a tutte, benvenuti a tutti, vi ringrazio per essere qui oggi con noi ai nostri appuntamenti della Tavola Ovale. È un ciclo di incontri che molti di voi conoscono, organizzato da Massimo Rospoccher e coordinato insieme a Enrico Barseriati, che ringrazio, e che quest'anno vede questa iniziativa con Matteo Di Tuglio, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Quest'anno abbiamo voluto aprire la nostra iniziativa, abbiamo voluto inserire questa iniziativa dedicata alla storia ambientale per una ragione molto semplice. Nel corso del 2021 si terrà la settimana di studi dell'Istituto Storico Italo-Germanico, che sarà dedicata ad Ambiente e Infrastrutture, che terremo tra il 22 e il 24 di settembre del 2021, e proprio in vista di questa iniziativa abbiamo cominciato a lavorare su queste tematiche della storia ambientale e abbiamo pertanto pensato di accompagnare questo arrivo dei ricercatori e delle ricercatrici dell'ISIG a questo percorso con tre iniziative, diciamo. Una di queste si è tenuta il 5 marzo con Roberta Biasillo, introdotta da Giacomo Bonanni e da Luca Castiglioni, e dedicata all'Ambiente e al Colonialismo. Il secondo appuntamento è l'appuntamento di oggi, la storia ambientale e, diciamo, nel campo della storia moderna, di cui appunto Matteo ci racconterà le cose su cui sta lavorando. E un terzo appuntamento, che è proprio a ridosso di questa iniziativa, che si terrà la settimana prossima, il 30 di aprile alle 11, ed è la presentazione di un lavoro che io e Giacomo abbiamo curato per l'Istituto Storico, che è appunto l'annale numero 2 del 2020, dedicato proprio alla storia ambientale. Per cui ne parleremo anche la settimana prossima insieme a Wilco von Ardenberg, del Max Planck di Berlino, e insieme a Luigi Lorenzetti dell'Università della Svizzera Italiana. Quindi questi incontri, come dicevo, insomma, sono un attimo di riflessioni che vogliamo fare quest'anno su questi nuovi temi della storia ambientale che vogliamo conoscere meglio, insomma, su temi su cui l'Istituto sta cominciando ad orientarsi da qualche tempo. A questo punto lascio la parola a Giacomo, che ci introduce la presentazione di Matteo. Prego Giacomo. Mille Katia, anche ovviamente mi associo ai ringraziamenti a Massimo e Enrico per l'ospitalità, a Elisabetta che sta curando la regia, e soprattutto a Matteo Di Tullio, il nostro relatore di oggi, che ha accettato, insomma, di partecipare a questo incontro, di parlarci un po' di environmental humanities e storia ambientale. Matteo si è laureato all'Università Statale di Milano, ha poi fatto il dottorato in storia economica all'Università Bocconi, e poi ha svolto attività di ricerca all'Università di Rennes, all'Università Bocconi, e all'Università di Pavia, dove attualmente è da poco diventato ricercatore di tipo B. e inoltre ha anche accennato che dal prossimo anno otterrà anche un corso di storia ambientale di età moderna, e quindi uno dei pochi corsi di storia ambientale che ci sono in Italia, e credo uno dei pochissimi dedicati all'età moderna, quindi insomma anche di questo poi forse, se ci sarà tempo, avremo modo di chiedergli qualcosa. Però oggi Matteo ci parlerà di una ricerca che sta conducendo a tempo, e che tende anche a approfondire nei prossimi anni legati al tema della sostenibilità e della gestione comunitaria delle risorse. Ultima cosa, prima di passare la parola a Matteo, sono alcuni lavori invece che ha già concluso a proposito del suo percorso di ricerca. Il primo è la ricchezza delle comunità, che è stato un po' il frutto della sua tesi di dottorato, è stato pubblicato da Marsilio e poi pubblicato anche in lingua inglese da Rutledge, e più recentemente nel 2019 invece è uscito The Lion Share, che ha pubblicato per Cambridge University Press insieme a Guido Alfani. Con questo lascio la parola a Matteo, che ringrazia ancora la disponibilità, e mi taccio. Sono io che ringrazio voi per l'invito, è veramente per me un onore sedere a questa tavola ovale, così prestigiosa, e quindi insomma sono io che vi ringrazio dell'invito, ringrazio ovviamente gli organizzatori di questa tavola ovale, ringrazio Giacomo e Katia per questa introduzione. Come ho già detto a loro, anche diciamo all'inizio quando ci siamo visti, io ho preparato una presentazione e cercherò di stare, come dire, di essere contenuto nella mia esposizione, ma nel caso dovessi andare lungo, per favore vi chiedo di intervenire. Ho una presentazione che adesso, come ho fatto prima, cercherò di condividere, e così posso iniziare. No, non è questo che devo condividere, scusate. Scusate solo un secondo. Sempre così, eh. Quando si prova la prima volta funziona tutto. Perché non mi dà più la presentazione? Vediamo se faccio schermo intero. Ok, mi consente. Ok. Perfetto. Voi riuscite a vedere la mia presentazione, eh? Mi date una conferma, per favore. Ok, benissimo. Perfetto, grazie mille. Ok, allora, in questa, diciamo così, chiacchierata che ho pensato per questo pomeriggio, diciamo così, i due termini che reggeranno un po' la presentazione sono appunto le due parole, o meglio, le tre parole, una, un concetto composto da due parole, environmental humanities e uno, l'altro, da solo, sostenibilità, attorno a questi due concetti ho organizzato la mia presentazione che, diciamo, non è nulla di compiuto, non presenta un lavoro compiuto, ma presenta, diciamo così, una riflessione che, come avremo poi modo di dire, parte da lontano e che mi ha già dato modo di sviluppare dei lavori in particolare sul tema della resicoltura, delle, come dire, riflessioni nuove, soprattutto che ho svolto negli ultimi mesi, negli ultimi, nell'ultimo anno, avvicinandomi, diciamo così, un po' all'approccio dell'environmental humanities e poi vi spiegherò e cercherò di farvi capire come e in che modo, diciamo così, mi sono avvicinato e sto cercando di capire qualcosa di più di questo mondo e, diciamo così, tutto questo finalizzato poi allo sviluppo di un progetto un pochino più ampio che spero di avere la possibilità di realizzare nei prossimi anni. Partirei da questa mappa, da questa carta, mi scuso per la qualità pessima della fotografia, ma purtroppo di questa mappa che è stata un po' il mio, come ho scritto nella slide, il mio Big Bang, cioè l'elemento che ha scatenato, diciamo così, questa riflessione sulla sostenibilità, purtroppo solo una riproduzione su una pubblicazione di qualche tempo fa, che ho fatto moltissimi anni fa, e che però, diciamo, è l'elemento che mi sembrava utile riportarvi per farvi, diciamo, per dar senso del percorso di ricerca che ho fatto. Questa è una mappa nella quale sono state disegnate, o meglio localizzate, le risaie attorno al borgo di Caravaggio. Spero che la mappa si riesca a vedere, ma insomma, se vedete anche il mio puntatore, qui vedete il borgo di Caravaggio, con le case e le sue mura, qui c'è il santuario, il famosissimo santuario mariano di Caravaggio, e tutt'attorno c'è la campagna caravaggina, e ci sono indicate dove sono collocate le risaie. Come vedete ci sono anche delle indicazioni riguardo ai venti, e, diciamo, questa mappa e quello che è collegato a questa mappa è l'elemento che mi ha incominciato a portare a riflettere sul tema della sostenibilità, e adesso vi spiego, o cerco di spiegarvi, il perché. Questa mappa fa parte di una documentazione enorme che riguarda la comunità di Caravaggio, ma che più in generale riguarda, nel Fondo Agricoltura dell'Archivio di Stato di Milano, la materia risaie, che è una documentazione enorme relativa ai litigi che la diffusione dell'agricoltura produceva nelle varie comunità. Queste cartelle nell'Archivio di Stato di Milano, nel Fondo Agricoltura, sono ordinate per comuni, ed è interessante vedere come diversi comuni della pianura, della bassa pianura lombarda, siano stati coinvolti da questo fenomeno, chi prima, chi dopo. Cioè, in buona sostanza, l'arrivo delle esaglie scatinava delle lotte infinite, in alcuni casi, come nel caso di Caravaggio, addirittura con una produzione documentaria enorme. Al che, diciamo, mi sono incominciato ad interessare al tema, perché mi incuriosiva questa cosa, volevo riuscire a capire perché questo aspetto produceva tutta questa documentazione. E quindi, ovviamente, come faccio solitamente quando mi approccio ad un tema nuovo, sono andato un po' a vedere cosa diceva la letteratura rispetto al tema, e di fatto ho trovato una interpretazione che possiamo definire classica attorno al tema della risicoltura. Nel caso Lombardo, in particolare, è Luigi Faccini che ci si è lavorato, ma ci sono diversi altri lavori che si sono occupati del tema anche in area piemontese, soprattutto. Qual è, diciamo così, se vogliamo sintetizzare, il modo attraverso il quale questi autori hanno visto il tema? Beh, di fatto la giustificazione che loro danno a questa mole enorme di documentazione prodotta e questi litigi quasi infiniti che la risicoltura provoca sono legati al fatto che la risicoltura tende a trasformare queste campagne da campagne con ancora delle modalità di conduzione di tipo comunitario ha invece una conduzione di tipo capitalista. Mi sono forse reso conto adesso che non vi ho dato i termini cronologici del problema. Diciamo che la gran parte dei problemi e della documentazione incomincia a essere prodotta nel tardo 500, anche se è soprattutto dalla seconda metà del 600 e nel 700 che questi litigi e questa documentazione si fa molto più abbondante. Quindi l'interpretazione classica dice questo è frutto dello sviluppo di una conduzione capitalista, quindi siccome questo crea proletarizzazione, crea esproprio della piccola proprietà contadina, crea uno scontro tra capitale e lavoro e crea uno scontro tra interesse privato e salute pubblica, perché fin da subito ci si rende conto, pur non comprendendo il nesso tra le due cose, che dove c'era risaie c'erano problemi di febbre intermittente, ecco, tutto questo scatenava in un certo quel modo la lotta, soprattutto perché rompeva l'equilibrio della tradizionale comunità contadina. Ora, questa interpretazione diciamo mi convinceva, ma secondo me non riusciva ad andare fino in fondo al problema. E diciamo, studiando queste carte, ma qui ovviamente vi sto provando a sintetizzare alcuni aspetti, alcuni elementi su cui ho già lavorato, ho creduto che forse la tematica e la, come dire, il perdurare delle liti, perché il problema non era lo scontro, ma era il perdurare di questo scontro, ecco, il perdurare di queste liti era legato al fatto che in queste società locali quello che si creava era una sorta di cortocircuito tra due principi fondamentali su cui si reggeva l'equilibrio, la relazione società-ambiente in queste società. Da un lato infatti queste società, le società della bassa pianura avevano lungamente lavorato per un equilibrio ambientale, bisognerebbe metterlo tra virgolette, quell'equilibrio ambientale, soprattutto la parola ambientale, perché ovviamente è un ambientale dalla prospettiva dell'uomo, antropocentrica, quindi è l'ambientale dell'uomo, è l'equilibrio ambientale per l'uomo. Perché? Perché questo equilibrio ambientale cosa permetteva? Permetteva di abitare e lavorare questi territori. Teniamo conto che la gran parte di questi territori erano territori molto complessi da abitare e da lavorare perché erano territori soggetti per effetto delle esondazioni dei fiumi, per effetto delle risorgive che stavano più a nord, per tutta una serie di ragioni a essere acquitrinosi e quindi difficili da lavorare. Ora, quindi la relazione società-acqua in questi territori è stata fondamentale, non ritorno su questioni che credo conosciamo già tutti, e il lavoro di dissodamento, di reggimentamento delle acque, di cura e di attenzione al territorio era stato l'elemento fondamentale per vivere, abitare e lavorare in questi territori. Questo elemento era importante perché? Perché permetteva non solo ovviamente di abitare e lavorare questi territori, ma allo stesso tempo di raggiungere il secondo grande obiettivo, diciamo così, di equilibrio ecologico, se vogliamo usare questo termine, nella relazione tra società e ambienti in questi territori, e cioè l'equilibrio alimentare. Avere terre, e avere, diciamo, terre tra l'altro molto fertili, perché una volta che erano state liberate dalle acque in eccesso diventavano molto fertili, permetteva di ottenere un equilibrio alimentare. Un equilibrio alimentare che permetteva quindi una migliore sussistenza e crescita demografica che però a suo modo produceva una pressione ulteriore su questi territori, cioè la ricerca di nuove terre per sostenere e sostentare una popolazione sempre in crescita, oppure riuscire ad ottenere dai medesimi territori, attraverso un approccio intensivo alla collettivazione, migliori rese. In questo contesto e in questo ambito vanno lette la diffusione nel corso del Seicento di nuovi prodotti, di nuove colture che sono utili a sostenere questo equilibrio tra popolazione e risorse, tra cui il mais e il riso. Il problema qual è? È che il riso crea un problema all'equilibrio ambientale. Perché? Perché la diffusione della ricicoltura in buona sostanza limita la trasformazione in terre utilizzabili o coltivabili delle terre marginali paludose, soprattutto perché all'inizio la ricicoltura viene sperimentata nelle aree paludose, che quindi vengono mantenute come tali. Perché il riso richiede molta acqua e quest'acqua spesso era utilizzata per altre ragioni e questo crea una serie di conflitti perché il riso diffonde una malattia, la risicoltura porta a una malattia, la cosiddetta malaria, dall'aria malsana, allora loro credevano che la risaia produceva e quindi crea un problema di equilibrio ambientale nel senso che la popolazione che viveva su questi territori si trovava in difficoltà proprio perché le morti aumentavano e quindi diciamo i due pilastri su cui si reggeva la relazione uomo-ambiente, equilibrio ambientale, equilibrio alimentare, contrastavano tra loro. Da questo punto di vista io ho pensato che forse si poteva provare allora a interpretare questa lunga mole di carte prodotte e questo problema quasi ininterrotto nell'arco di questi secoli come un problema di sviluppo sostenibile. a partire da questo lavoro sulla risicoltura allora ho incominciato ad interrogarmi su il tema della sostenibilità e ho pensato che quindi diciamo per provare a ragionare attraverso questa interpretazione o questa come dire via sulla quale si poteva provare a ragionare attorno alla risicoltura ma non solo e ovviamente fortemente stimolato dal contesto in cui viviamo in cui si sente parlare di sostenibilità un giorno sì e l'altro anche ho incominciato a pensare che forse diciamo così da storico o sedicente tale potevo provare a pormi questo problema e a portare o ad affrontare questa tematica e questa problematica nelle società del passato ovviamente non applicando criticamente il concetto come vedremo ma provando a ragionare attorno a come queste società in particolare le società preindustriali o di età moderna che sono quelle che conosco un po' di più delle altre affrontino i problemi di sostenibilità cioè quello che a me interessava era capire nel lungo periodo quindi diciamo in un lasso di tempo che va dal 400 dal tardo 400 fino all'800 all'inizio dell'800 come e in che contesto le attività economiche potevano far emergere problemi di sostenibilità in particolare focalizzandomi sull'uso e sulla gestione delle risorse naturali ovviamente questo mi ha portato è ovvio ma non non mi soffermerò molto su questo a discutere o a a mettermi in dialogo con alcune teorie classiche insomma quella maltusiana che penso sia venuta in mente un po' a tutti quando ho parlato prima della relazione risorse alimentari popolazione ma anche magari teorie un pochino più moderne o alla moda come la cosiddetta curva di buzznet ambientale quindi vedere se esista e se c'è un nesso tra la dinamica come dire della ricchezza e l'emergere dei problemi di sostenibilità ma diciamo era solo per richiamarvi alcune tematiche con le quali mi sono dovuto confrontare il primo problema però e lo dicevo prima è stato quello di capire come definire la sostenibilità e come una volta come dire trovata una definizione che mi convinceva rintracciare questo problema nelle società del passato e qui diciamo forse perché prima vivevo in un mondo fatato ed ero ingenuo ma insomma mi sono reso conto che in realtà non esiste un consenso unanime né tra le scienze pure né tra le scienze sociali e umane attorno a questo concetto cioè diciamo che genericamente ci si può rivolgere al concetto di sostenibilità come appunto alla capacità di utilizzare di affrontare o di soddisfare i bisogni del presente senza creare problemi alle generazioni future però quando poi si gratta un po' diciamo così questa definizione e si prova ad andare un pochino più nel dettaglio beh e quindi a mettere in pratica la sostenibilità beh questa cosa incomincia a creare una serie di problemi anche perché presto e questo elemento secondo me è abbastanza chiaro nel momento in cui ci si rende conto e si va a leggere magari ad esempio banalmente quelli che sono i goals dello sviluppo sostenibile futuro e in cui si vede che ci sono tantissime cose e che spesso se queste cose le si mette un po' a confronto non è detto che siano tra di loro compatibili o comunque completamente in sintonia l'una con l'altra infatti sempre di più le come dire chi si occupa di sostenibilità anche nelle società attuali si è reso conto che quando parliamo di sostenibilità dobbiamo parlare di un fenomeno che ha diverse dimensioni e che alla sostenibilità ambientale dobbiamo quantomeno mettere in relazione la sostenibilità sociale e la sostenibilità economica cioè sempre più la sostenibilità intesa come un elemento formato da diverse parti che possono essere integrate tra di loro ma che non necessariamente mi sembra di poter dire siano per forza tutte portino tutte nella stessa direzione e la domanda quindi che mi sono posto è a questo punto ma quando parliamo di sostenibilità e quando affrontiamo il tema della sostenibilità possiamo parlare di un principio in un certo qual modo che possa essere universalmente riconosciuto come tale o piuttosto dobbiamo incominciare ad affrontare il tema della sostenibilità considerando la sostenibilità come una pluralità di possibilità e quindi mi sono incominciato a porre la domanda del per chi e per cosa un processo che poi a me è quello che interessa osservare un processo sia sostenibile da questo punto di vista allora ho incominciato a riflettere sulla questione e in un certo qual modo la conclusione a cui sono arrivato spero di non essere troppo come dire rapido nel trarre le conclusioni ma immagino che poi eventualmente su questi passaggi ci sarà la possibilità di un dibattito ma insomma in questo contesto ho pensato che alla fine se noi soprattutto se noi osserviamo la sostenibilità in una prospettiva integrale cioè che non tenga solo in conto uno degli aspetti quella economica che può essere il fatto di utilizzare delle risorse senza creare problemi agli altri attori economici ma allo stesso tempo che l'attività economica che viene realizzata abbia una sua capacità di resistere nel tempo quindi una sua anche profittabilità se vogliamo utilizzare questo termine quella sociale che significa avere la possibilità di utilizzare una risorsa senza creare troppo perché nullo è quasi impossibile ma troppo disagio per le altre persone e per gli altri diciamo per il network sociale in generale che gravita attorno a quella risorsa e quella ambientale quindi la capacità di utilizzare una risorsa permettendole di rigenerarsi e di non esaurirsi quindi diciamo questo è un po' il senso della cosa allora se io osservo questo processo il processo mi dice che dal tempo zero in cui io osservo il processo se c'è una situazione di sviluppo quindi se è qualcosa che cambia all'interno di quella società questo sviluppo porterà a muovere la sostenibilità all'interno di quale società al tempo uno ma non necessariamente il movimento dal tempo zero al tempo uno è un movimento dalla situazione perfetta di sostenibilità a una situazione di disastro potrebbe essere il contrario cioè potrebbe essere che nella nuova situazione la sostenibilità ambientale sia migliore della sostenibilità sociale potrebbe essere che si arrivi ad un punto di equilibrio in cui sostenibilità economica ambientale sociale vanno di pari passo come potrebbe essere che non so la sostenibilità dal punto di vista ambientale va a discapito di quella economica e così via quindi diciamo di fronte a questa riflessione e di fronte a questa come dire modalità attraverso la quale vedere o provare a vedere a studiare la sostenibilità ho pensato che tutto sommato diciamo così gli storici e la prospettiva dell'indagine storica poteva essere di vantaggio anzi questa eterogeneità diciamo così questa pluralità per uno storico diventa in realtà uno stimolo uno stimolo a fare che cosa? a considerare nei processi che sta studiando diverse prospettive cioè a capire che nei processi che sta studiando ci sono diverse prospettive quindi diciamo se questo per dirlo con una battuta potrebbe essere un problema per un politico che deve scegliere quale modello di sviluppo analizzare per il futuro posto che lo sia come dire approntare per il futuro per uno storico invece questo è uno stimolo perché diventa la via attraverso la quale ancora una volta oltre diciamo così a tanti begli iscritti che ce l'hanno insegnato sia necessario analizzare il passato secondo una prospettiva prudima e quindi come in realtà affrontare il tema della gestione delle risorse naturali e dell'uso sostenibile in questo senso ampio che sto dicendo adesso delle risorse naturali per le società del passato può diventare uno stimolo per provare appunto ad osservarne nella loro dimensione prudima è in questa come dire è in questa riflessione che sono entrato in contatto ok in un certo qual modo ho incominciato a osservare con un pochino più interesse di quello che avevo fatto fino a questo momento le cosiddette environmental humanities ora diciamo ho pensato di darvi alcune coordinate attorno a questa come dire questo movimento disciplinare che si è che si è sviluppato negli ultimi anni ovviamente non sono la persona più titolata per farlo perché non l'ho mai come dire praticato veramente e ci sono sicuramente persone molto più titolate di me per farlo ma diciamo seguendo lo spirito un po' di questa tavola ovale e accogliendo l'invito che mi è stato fatto ho creduto che fosse utile soffermarsi un po' nel definire alcune coordinate dell'environmental humanities e poi soprattutto per quanto riguarda il mio discorso nel cercare di capire come questo tipo di novità che si è progressivamente imposta può essere utile a uno storico come dire dell'economia e della società del passato come me per provare a adottare quell'approccio diciamo di prospettive plurime che dicevo prima quindi le environmental humanities che cosa sono ho provato un po' a sintetizzare vedrete che in queste slide ho messo alcuni testi che secondo me possono essere utili per chi volesse approfondire il tema e che sono stati quelli su cui ho letto che io ho letto e sui quali mi sono diciamo così formato da questo punto di vista ecco le environmental humanities vogliono mettere in dialogo almeno questo mi sembrano i due principi cardine mettere in dialogo le scienze naturali con le scienze sociali e la cultura umanistica per affrontare l'attuale crisi ecologica cioè in un certo qual modo se lo posso sintetizzare così la crisi ecologica attuale è talmente rilevante è talmente importante che non solo le scienze naturali e fisiche diciamo così possono essere utili a contribuire ad affrontare questa crisi ecologica ma c'è bisogno anche che scienze sociali e cultura umanistica entrino in questo dialogo perché è solo diciamo così attraverso una capacità di mettere in relazione questi saperi che si può affrontare la crisi attuale questo perché bisogna cercare di ricostruire la complessità delle reti materiali che intercorrono fra che cosa le culture le economie le pratiche sociali tenendo insieme perché ovviamente nell'invarnamento agli umani ci sono un approccio molto incentrato sulla dimensione globale quindi tenendo insieme la dinamica locale con quella globale e vi ho scritto in questa slide un approccio militante nel senso che l'esigenza di avviare questo approccio per quanto mi sembra di capire da quanto hanno scritto i diversi autori che in un certo qual modo l'hanno promossa o che la stanno praticando è proprio quella di una esigenza se vogliamo anche di uno spirito di diciamo di un dovere civile ecco non mi veniva il termine scusate di un dovere civile da parte di questi scienziati in senso lato del termine no? di contribuire alla alla crisi ecologica attuale e di criticare fortemente da un certo punto di vista l'approccio e la modalità attraverso la quale è stata gestita la relazione tra società umane e ambiente in questo periodo quindi da questo punto di vista è una necessità che viene anzitutto da una coscienza civile e di difesa della relazione o di ripensamento alla relazione tra società umane e ambiente che spinge e stimola a mettere a servizio il proprio sapere e la propria conoscenza e la propria capacità di ricerca ai fini di trovare delle soluzioni per il futuro questa pratica diciamo così è una pratica cioè di messa in comune di saperi da parte delle scienze sociali e umane è una pratica che inizia diciamo così a farsi strada in modo più sistematico a cavallo del nostro secolo in realtà diciamo così potremmo dire che già a partire dagli anni settanta del novecento con la rinascita con il cosiddetto environmental turn si può incominciare a vedere qualcosa di simile ma diciamo questa sistematica relazione mi sembra di poter dire che incomincia ad essere frequentata e realizzata in modo più fattivo proprio a cavallo del nuovo secolo mi sembra che i centri principali possano essere individuati negli Stati Uniti d'America e nell'Australia anche se diciamo così c'è una spinta a questo tipo di interpretazione da parte di quegli studi postcoloniali e dagli studi femministi che vengono diciamo così dal mondo extraeuropeo e extra statunitense insomma extra occidentale per intenderci quindi come ci sono stimoli e spinte anche in altre direzioni anche diciamo dal punto di vista dell'environment di Humanities studi postcoloniali e femministi aiutano a far che cosa a mettere in relazione una serie di saperi e a creare delle esperienze di collaborazione tra gli scienziati sociali e le scienze umanistiche nel tentativo di affrontare osservare comprendere la relazione società e soprattutto cultura e ambiente anche se il termine diciamo environmental humanity viene di fatto inizia ad essere utilizzato in modo sistematico e incomincia a diventare diciamo così la parola che accomuna una serie di esperienze nate in modo spontaneo e quella a partire dal 2010 nel 2012 è fondata l'omonima rivista e da diciamo dal 2000 diciamo dagli anni 10 in poi del nuovo millennio di fatto hanno incominciato a nascere e a proliferare in molti casi tutta una serie di insegnamenti corsi di laurea in varie università ne abbiamo anche uno in Italia a Venezia e se non ricordo male c'è anche un master a Roma o qualcosa di simile quindi diciamo anche da noi qualcosa è arrivato e soprattutto sono nati moltissimi centri di ricerca che da diversi anni cercano appunto di mettere in dialogo la come dire l'esperienza delle scienze sociali e delle scienze umane di relazionarle anche con le scienze fisiche e naturali nel tentativo appunto di contribuire dalla prospettiva umanistica a questo tipo di problema questa diciamo così eterogeneità o questa spontaneità nella nascita di questi gruppi fa sì che ovviamente di fronte abbiamo una pluralità di approcci che è legato al fatto che magari in certi certi ricerchi c'è più forte una componente non so di filosofi per esempio in un'altra c'è più forte una componente di storici in altra magari sono più i sociologi o gli antropologi ad avere un ruolo rilevante questo diciamo fa sì che l'approccio e in quel modo la modalità attraverso la quale vengono sviluppate le ricerche e la tipologia di ricerche prodotte sia differente tuttavia mi sembra che ci sia un minimo comune dei nominatori in quelle cose che vi ho richiamato in precedenza ma insomma sono pronto diciamo così ad essere smentito da questo punto di vista perché questa è la lettura che do io dell'environmental humanitis però ho fatto diciamo così questa questa carellata che affronta il tema perché a cosa serve a me o a cosa mi ha portato cosa mi ha portato di più questo approccio rispetto a quello che avevo prima e perché credo che l'approccio dell'environmental humanitis possa diventare uno stimolo anche per una persona come me che diciamo così non le ha praticate fino adesso e che diciamo prende ispirazione un po' da quel modello più che forse praticarlo nel vero senso della parola beh perché appunto le environmental humanities hanno in comune con quello che cercavo di dire prima che cosa la volontà di considerare la dimensione plurima dei fenomeni e anzi diventano uno stimolo sono uno stimolo nel cercare di fare in modo che questi fenomeni li si come dire studino tenendo insieme la stretta relazione fra le questioni ecologiche quelle socio economiche e culturali ecco questi tre elementi mi sembrano la via attraverso la quale si può provare allora a mettere in pratica a studiare quello che dicevo prima anche per le società che mi interessano il secondo elemento fondamentale per il quale mi sembra che questo approccio sia utile soprattutto agli storici soprattutto alla storia ambientale o a coloro che in un certo qual modo si occupano di ambiente all'interno dei loro studi storici è di riportare la centralità dell'approccio umanistico perché mi sembra che anche da questo punto di vista ma anche qui sono pronto ad essere smentito da chi l'ha praticata più di me la storia ambientale ci sia stato negli ultimi anni un tentativo una sorta di come dire di abdicazione all'approccio umanistico in favore soprattutto di una supremazia alla quantificazione e alla modellizzazione che è invece più tipica delle scienze dure quindi diciamo siccome io questa cosa un po' la vedo e l'ho vista in pratica anche e soprattutto per gli studi di storia economica mi sembra che invece mantenere e ribadire che l'approccio umanistico allo studio dell'ambiente delle relazioni tra società e ambiente che poi è un po' quello che a me interessa sia molto utile non perché la quantificazione o anche in un certo qual modo il tentativo di creare dei modelli non sia utile ma perché diciamo l'approccio umanistico è quello che ci permette di studiare più nel profondo queste dinamiche e di non appunto abdicare al nostro ruolo di provare ad andare oltre ai quadri e ai numeri tracciati da questi modelli per andare più nel dettaglio a studiare quelle relazioni e terzo ma non ultimo perché appunto diciamo così l'environamento di umanistico diventano uno stimolo per adottare un approccio interdisciplinare per studiare che cosa la dimensione sociale economica e ambientale dalla sostenibilità nella relazione nel mio caso fra economia e ambiente il che cosa vuol dire di tenere a mente che in un certo qual modo esistono diverse dimensioni e se possibile nel praticare quindi diciamo così nell'avere un approccio interdisciplinare anche come studioso singolo diciamo così e se possibile ma questo ovviamente non dipende solo da me dipende anche dalla possibilità di creare delle sinergie con altri studiosi che si occupano di temi simili ai miei ma che vengono da discipline diverse di praticare l'interdisciplinarità cioè mettendo in connessione i saperi e non semplicemente come una somma di due test che pensano in modo diviso e poi sommano il loro risultato ma anche come tentativo di creare una sorta di ibrido e di inibridare in un certo qual modo le modalità di studio dell'uno e anche dell'altro o dell'altra che sia in questa prospettiva ora e diciamo così ragionando sul tentativo di provare a ricostruire questa dimensione plurima della relazione fra uomini e ambiente ho incominciato a sviluppare negli ultimi anni un progetto di ricerca che nella mia intenzione è un progetto pilota che serve poi a costruire qualcosa di più ampio sulla gestione delle acque nelle pianure fra Milano e Brescia perché questo territorio perché è il territorio che in parte conosco di più perché su Milano avevo la possibilità di avere a disposizione già molto lavoro fatto da una collega e amica che si chiama Michela Barbot che aveva studiato questa cosa per alcuni grandi enti nella pianura nella pianura milanese e nel caso di Brescia invece perché ho avuto la possibilità di lavorare di studiare soprattutto le carte dell'archivio dell'ospedale maggiore di Brescia che ha una grande mole di documentazione anche sulla gestione del patrimonio in riguo che questo ente che questo ente gestiva e di poterlo fare sul lungo periodo quindi diciamo mi interessava studiare questa dimensione tra l'altro questo mi permetteva di mettere insieme due realtà diverse di due antichi stati diversi lo stato di Milano da un lato e la Repubblica di Venezia e quindi di provare a vedere anche se c'era in un certo qual modo una come dire una ricaduta o una una relazione tra tra questa diversità politica e quello che succedeva e diciamo per cosa come studiare la gestione dell'acqua e cercare di far emergere questa dimensione plurima soprattutto attraverso lo studio dei conflitti quindi l'obiettivo di questo lavoro era quello di provare a raccogliere il più possibile carte relative ai conflitti per l'uso delle acque e a classificarle costruendo un vero e proprio una vera e propria base dati per poi fare dei ragionamenti diciamo ora non vorrei entrare troppo nel dettaglio della questione ma insomma questa è la maschera di raccolta dati nella quale diciamo l'idea è quella di raccogliere le più tante informazioni relative al conflitto capire di che tipo di conflitto stiamo parlando di quali attori sono coinvolti di quale sia la ragione per cui si rivolgono ad un strato locale o centrale e se possibile di capire come va a finire il conflitto ora questa cosa fatta sistematicamente sul lungo periodo cioè nell'arco di qualche secolo ha diciamo il vantaggio o dà la possibilità di far che cosa di provare ad osservare il fenomeno sulla lunga durata e di passare da interrogazioni della base dati diciamo così dal punto di vista quantitativo se vogliamo per contraddire quello che ho detto prima e quindi vedere la dinamica di questi conflitti vedere quanto sono in che momenti c'è una conflittualità maggiore e farlo in modo sistematico su diversi enti in un certo qual modo serve anche a migliorare diciamo così l'approccio attraverso il quale o meglio di 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 stemperare la problematica che può nascere dal fatto che un ente è particolarmente coinvolto in un certo periodo in determinati conflitti per una congiuntura propria quindi se questa cosa la facciamo sistematicamente su diversi enti possiamo superare o limitare arginare questo problema ma da una come dire osservazione quantitativa di lungo periodo si può anche scendere molto più nel dettaglio fino a considerare analizzare la singola causa perché i conflitti sono così importanti beh perché i conflitti e le carte dei conflitti lette in modo sistematico e analitico ci permettono di far veramente emergere una pluralità e una quantità di informazioni che attengono la cultura sociale locale la dimensione economica locale la cultura locale nei confronti di una risorsa la modalità attraverso la quale una società magari superando anche le istituzioni preposte per questo tipo di attività riescono a trovare un accordo per gestire socialmente il problema eccetera eccetera quindi questo focus sulla conflittualità è a mio parere il modo attraverso il quale per noi è possibile in modo abbastanza certo ricostruire che cosa? l'emergere di problemi che possiamo definire di sostenibilità perché nel momento in cui c'è un conflitto questo conflitto è legato al fatto che la condizione del tempo zero è alterata da qualcosa che avviene tra il tempo zero e il tempo uno che è il tempo del conflitto e questa alterazione ha creato una come dire alterazione appunto una modifica dell'equilibrio sociale economico ambientale che si era provato in un dato territorio quindi il conflitto è la via attraverso la quale noi possiamo vedere quando e in che contesto emergono questi problemi di sostenibilità nel senso largo che ho inteso adesso o che ho cercato di spiegarvi prima per concludere e spero di non avervi annoiato troppo quali sono gli sviluppi futuri che cosa vorrei fare in futuro beh anzitutto continuare su questa strada dei conflitti per moltiplicare i casi per provare a moltiplicare questi casi di studio e vedere se queste dinamiche nel lungo periodo ritornano e che cosa posso ottenere da questo tipo di lavoro tenuto conto che fino adesso posso dire che di tutta questa molle di dati raccolti raccolti in parte da me e in parte da altri studiosi che hanno collaborato con me di tutta questa molle di dati raccolti ho potuto sfruttarne solo la minima parte e quindi diciamo si può ovviamente provare ad andare molto più nel dettaglio ma diciamo il passo che vorrei fare nel futuro e questo dipende ovviamente dalla possibilità di collaborare di cooperare con altri ricercatori perché evidentemente non posso farlo solo io questo perché non ho diciamo così le competenze disciplinari per farlo ecco nel futuro quello che vorrei fare è provare a aumentare ancora di più la conoscenza di questa dimensione plurima della sostenibilità provando a mettere insieme tre aspetti quello diciamo così socio-economico della sostenibilità che è un po' quello che secondo me si può fare attraverso i conflitti quello giuridico culturale e in particolare attraverso uno studio sistematico secondo me questo si potrebbe fare secondo me attraverso uno studio sistematico per esempio degli statuti comunali e di vedere come queste risorse vengono definite all'interno degli statuti nel lungo periodo ma allo stesso tempo si può fare questo attraverso la ricostruzione di alcune catene testuali per esempio in testi diciamo così scientifici passatemi il termine o di tecnici che si occupano del tema ambientale e a questo diciamo a mio parere andrebbe aggiunto per avere una almeno una visione il più possibile plurima una visione che rispecchia abbastanza questa necessità di essere pluri ma anche gli aspetti più prettamente ambientali della sostenibilità quindi ricostruire il più possibile le dinamiche ambientali di quel territorio che potrebbero essere per esempio l'andamento del clima piuttosto che di cui adesso abbiamo tante informazioni piuttosto che la presenza o meno di alcune che possiamo definire tra molti virgolette disastri naturali penso alle esondazioni o penso nell'area montana alle frane alle slavine eccetera eccetera ma su questo forse una sfida una sfida abbastanza interessante che però in questo caso richiede veramente ancora di più degli altri uno sforzo di cooperazione con altre con altre saperi dal mio si potrebbe introdurre anche uno studio diciamo così della dimensione materiale del fenomeno attraverso l'approccio sicuramente non nuovissimo ma ancora estremamente innovativo dell'ecologia storica o comunque dell'archeologia ambientale che mi sembra che comunque dia la possibilità di avere informazioni molto importanti sulle dinamiche anche conflittuali locali che diciamo così non sono visibili né ad un occhio ad uno sguardo superficiale né ricostruibili se non in parte attraverso semplicemente l'analisi di fonti scritte ma questo diciamo è appunto come ho messo nel titolo sono gli sviluppi futuri cioè sono è la lista dei desideri diciamo così ecco sui quali sui quali mi piacerebbe sui quali mi piacerebbe lavorare però ecco mi sembra importante il fatto che arrivati a un certo punto forse sia utile provare a mettere insieme dei saperi che vadano oltre la possibilità che il singolo ricercatore può creare nel tentativo invece di fare una sinergia con altri saperi e altre discipline grazie questo era quello che volevo raccontarvi spero di non essere stato troppo lungo né troppo noioso insomma ecco grazie mille Matteo non lo sei stato affatto anzi veramente grazie per la ricostruzione densa sia del tuo percorso di ricerca in parte fatto in parte ancora tutto da fare ma che speriamo possa seguire con tutte le sulle situazioni che ponevi alla fine le nuove prospettive che ti poni per questa ricerca e anche per aver affrontato un tema metodologico e di un dibattito molto vivo attualmente molto articolato e quindi non era neanche facile ripercorrere e sintetizzare insomma a un pubblico credo in parte anche abbastanza estraneo perché è un dibattito soprattutto che viene come hai anche sottolineato te in altri contesti accademici e in maniera anche minore di quello italiano io innanzitutto vorrei sentire se ci sono sollecitazioni curiosità domande spunti dal pubblico vi ricordo che per interagire con Matteo è opportuno scrivere la domanda o insomma qualsiasi cosa vogliate chiedere o segnalare nella chat poi io e Katia leggeremo il vostro messaggio a Matteo nel frattempo per lasciare magari di tempo anche al nostro pubblico di scrivere insomma le domande o i loro commenti rompo io ghiaccio con una domanda volevo chiederti in riferimento alla tua ricerca insomma quello che ci hai detto anche sulla sostenibilità al fatto che naturalmente oggi come in passato si possano proporre definizioni diverse di sostenibilità che comprendono aspetti diversi in alcuni casi anche contrastanti volevo sapere un po' su due possibili interpretazioni contrastanti della sostenibilità non so se è così se avrei trovato documentazione in questo senso quella che potremmo definire locale e quella sovralocale o meglio quella delle comunità con tutti i conflitti che potevano esserci all'interno delle comunità o tra comunità e quelle invece che riguardavano come l'apparato statale in via di consolidamento intendeva di sostenibilità della gestione delle risorse naturali immagino l'apparato statale che era al contempo l'arbitro di molti di questi conflitti e una parte in causa di molti di questi conflitti come si articolava nella fase che tu hai approfondito questo tipo di conflittualità poi avrai molte altre curiosità ma intanto vedo se ci sono domande dal pubblico sì no ti ringrazio per questa domanda a cui rispondo così diciamo affermativamente e poi ti vado più nel dettaglio perché anzi che mi aiuta a richiamare diciamo così una cosa che non che non vi ho forse non vi ho spiegato bene non vi ho detto bene durante la presentazione uno dei motivi di estremo interesse per provare a studiare questi temi in età moderna oltre perché magari come direbbe qualcuno con la rivoluzione francese finisce la storia con buona pace di Giacomo ma è soprattutto perché in età moderna ci sono almeno due cose che sono centrali per capire la relazione tra le società locali e non solo e le risorse che sono da un lato l'emergere dello Stato moderno con tutte le differenze del caso e con tutti i problemi di utilizzare questa categoria ma certo c'è l'emergere di una volontà da parte di chi controlla un certo territorio di controllare anche le risorse di quel territorio che siano risorse fiscali che siano risorse ambientali c'è questa volontà quindi diciamo c'è una formula tradizionale di gestione delle risorse che viene ad essere intrecciata con questa nuova necessità da parte dello Stato di intervenire e che lo Stato come hai detto tu giustamente prima è arbitro ma molto spesso diventa anche l'elemento di alterazione di quell'equilibrio di cui parlavo prima perché la sua volontà di intervento crea un problema di gestione a livello locale di queste risorse e quindi crea poi la conflittualità quindi spesso lo Stato diventa anche il promotore di questa conflittualità e la seconda ragione per la quale secondo me studiare questi temi in età moderna è centrale è il fatto che in certo qual modo le scoperte le grandi scoperte geografiche la rivoluzione scientifica del 600 insomma fanno emergere diciamo una nuova cultura diciamo così della natura e della natura come risorsa e questo aspetto è piuttosto importante perché se vogliamo lì per usare un altro termine tanto alla moda in questi ultimi anni potremmo e non sono io che ho detto questa cosa ma ci sono diversi autori che l'hanno scritta ma insomma lì potremmo vedere l'emergere di quello che possiamo oggi chiamare l'antropocene cioè l'origine di quel fenomeno potrebbe essere anche legato a quella trasformazione culturale che è connessa tanto all'uscita degli europei dall'Europa quanto alla rivoluzione scientifica ad essa collegata quindi sì questo aspetto dello Stato è certamente molto interessante ed importante perché appunto lo Stato è arbitro ma anche parte in causa e questo ovviamente poi richiama tutto il tema della denigrazione delle risorse collettive da parte della scienza economica nel Settecento eccetera eccetera ma sono tutti temi collegati sui quali adesso non vorrei dilungarmi ma che mi sembrano rispondano perfettamente alla domanda che mi hai fatto grazie nel frattempo è arrivata anche più che una domanda un parere dice Claudio Lorenzini in realtà poi chiede l'opinione su secondo te qual è la ragione di questa accoglienza un po' tardiva delle istanze dell'environmental humanities in Italia questa è una domanda per quanto mi riguarda da un milione di dollari nel senso che allora io credo che questo sia in parte legato al fatto che in Italia c'è stata un'accoglienza tardiva c'è sempre un'accoglienza tardiva di un po' tutte le nuove discipline pensiamo baramente alla storia ambientale o no la storia ambientale in quanto tale è istituzionalizzata in tantissimi paesi ormai mentre in Italia non esiste la storia ambientale come disciplina istituzionalizzata esistono bravissimi storici ambientali di cui abbiamo tutta una serie di esempi presenti oggi ma come disciplina istituzionalizzata la storia ambientale non esiste questo certamente diciamo così è forse una delle ragioni per cui anche questo tipo di di approccio cioè quello dell'environmento degli umani si è arrivato un po' più tardi per il resto io credo che ma qui esprimo un'opinione personale da osservatore esterno quindi prendetela come tale credo che ci sia anche una forte relazione legata al fatto che un forte la questione sia fortemente legata al fatto che molto dipende dalla sensibilità dei ricercatori cioè in fondo queste spesso sono esperienze che nascono perché c'è una sinergia tra una serie di ricercatori di discipline diverse che si sono messi assieme attorno a un tema e hanno incominciato a costruire qualcosa sarebbe interessante capire le ragioni profonde perché in Italia questo avviene meno ma forse per una rigidità magari anche abbastanza significativa e importante delle nostre strutture universitarie rispetto alle novità può essere però è veramente una domanda complessa per quanto mi riguarda grazie intanto sono arrivate altre domande ti leggo quella di Beatrice Palmero che chiede se il processo ambientale moderno si definisce una periodizzazione convenzionale o un riscontro effettivo sull'ambiente della ricercoltura lombarda studiata allora nel caso della ricercoltura diciamo che sì possiamo parlare di una allora possiamo parlare di una sovrapposizione tra come dire periodizzazione tradizionale e periodizzazione ambientale perché di fatto il riso arriva in Italia o meglio arriva nella pianura padana di fatto negli ultimissimi decenni del 400 e la sua diffusione significativa avviene ci sono delle significative sperimentazioni in alcune aree in particolare a sud di Milano nel tardo 500 e poi è un fenomeno settecentesco certo sì bisognerebbe però ovviamente andare oltre per così dire anche gli steccati cronologici tradizionali e se vogliamo anche pensare alle dinamiche ambientali però questo è anche frutto del fatto che poi diciamo così uno si definisce una scala di osservazione una scala cronologica di osservazione del proprio problema del proprio fenomeno e tende ad applicarla gli steccati sì ovviamente sono sempre qualcosa con il quale bisogna fare i conti e che tendono ad essere qualcosa che opprime un po' la ricerca però mi sembra di dire che nel caso specifico della resicoltura la periodizzazione classica diciamo così e la interpretazione l'idea come dire la definizione classica di età moderna possa calzare quantomeno su altre cose ho dei dubbi ma diciamo in questo momento ho ricercato troppo poco su altro tipologio di risorse per poter rispondere a questa domanda che è sicuramente interessante e stimolante poi abbiamo un commento di Oscar Gasperi che dice che non gli sembra una buona idea quella di una storia militante perché apre gli occhi su determinati problemi ma li fa chiudere su su altri problemi che non coincidono con la fede che caratterizza il militante non so se volevi interagire anche su questo commento passo io ho utilizzato quell'aggettivo perché mi sembra di leggere nei lavori di che si richiamano alle environmental humanities questo tipo di approccio però è una mia interpretazione ed è un mio giudizio e soprattutto non posso certo io arrogarmi il diritto di dire che è effettivamente così primo e anche se fosse così non potrei rispondere io al fatto se il militante sia più o meno valido perché non è un diciamo così è una per così dire una un giudizio da esterno che ho dato rispetto a questa cosa ecco quindi no non potrei rispondere rispetto a questo tema grazie grazie Matteo anche da parte mia io ho naturalmente una serie di domande da farti perché sono venute molte di suggerimenti molte idee dalle tue presentazioni dalle suggestioni che hai lanciato mi riservo magari di farti la domanda più avanti e vado avanti a leggere invece nella chat Matteo Largaglioli che appunto ti ringrazia per la tua presentazione e fa questo commento più che una domanda solo una suggestione mi sembra che ci siano legami con la prospettiva di ricerca letteraria ma molto interdisciplinare che da circa vent'anni si muove sotto l'etichetta di ecocriticism e che di solito molto attenta allo studio delle rappresentazioni letterarie della natura dell'emergenza ecologica dell'interdipendenza tra l'uomo e il mondo delle pratiche sociali legate all'ambiente anche l'ecocritica in Italia è ancora piuttosto giovane ci dice Matteo sì allora diciamo che l'ecocritica o l'ecocriticism è in realtà uno delle subdiscipline che fanno parte dell'environmental humanities è proprio diciamo parte di questa famiglia diciamo così che quindi fa parte di quel filone di lettura critica se vogliamo della gestione della relazione o della interpretazione della relazione tra società e ambiente attraverso la letteratura e che appunto vuole provare ad entrare in dialogo con altre discipline sociali scienze sociali o scienze umane che si occupano del tema e che quindi ha diciamo aderisce o fa parte di questa famiglia dell'environmental humanities sì certo quella è proprio la direzione o è uno degli aspetti importanti anzi forse diciamo che ma qui potrei essere smentito mi sembra però di aver capito da quello che ho letto che proprio diciamo così gli studi di letteratura e sì gli studi di letteratura sono uno degli ambiti in cui di più si sta praticando questa questo approccio di environmental humanities mentre aspettiamo se qualcuno vuole aggiungere fare un commento alla tua presentazione io vorrei chiederti due cose da un lato tu hai parlato di questa questa ampiezza cronologica che se ho capito bene si estende dall'altardo 400 per oltre tre secoli mi pare che è la fascia cronologica in cui tu ti occupi quindi volevo chiederti in questa lungo arco cronologico in cui succedono nella storia italiana ma insomma nella storia europea tutti i rivolgimenti tutte le alterazioni tra sud e nord dell'Europa che conosciamo questo tipo di studio che tu stai conducendo basato sul conflitto è un conflitto che riguarda quali soggetti cioè nel tardo 400 i soggetti che confliggono sono le comunità locali contro i grandi eventi ecclesiastici o lo stato in formazione di cui parlavi prima e questo conflitto si modifica nel tempo con ovviamente come cambia poi l'economia italiana dell'epoca e questo tipo di conflitti in che tipo di fonte poi emergono cioè per un lungo periodo così quale tipo hai delle fonti seriali che tu prendi in esame esiste una fonte statuale così lunga oppure ti appoggi magari a fonti sociali come possono essere le fonti notarili cioè dove è il conflitto perché tu hai fatto hai mostrato naturalmente quello schema molto articolato che abbiamo visto molto velocemente in cui appunto hai dato indicazione dei soggetti dell'interazione dei luoghi volevo però capire stiamo parlando di cause stiamo parlando di arbitrati cioè il conflitto in quale tipo di documentazione emerge se puoi dire puoi aggiungere qualcosa ecco su questo argomento certo anzi ti ringrazio della domanda che mi permette sicuramente di essere più preciso riguardo a una presentazione che in alcuni punti sicuramente sarà risultata piuttosto rapida e quindi di conseguenza superficiale allora diciamo così la modalità in cui procedo alla ricerca è quella di individuare delle istituzioni che abbiano un corpus documentario piuttosto lungo che mi permetta di seguire le loro cause per la gestione del loro patrimonio quindi sto parlando di grandi grandi istituzioni grandi enti ecclesiastici grandi o meno grandi come dire luoghi luoghi pi o istituzioni caritativo assistenziali come ho citato prima per esempio l'ospedale di Brescia nel caso della pianura lombarda ci sono per esempio un'altra area su cui sto lavorando è per esempio quella dei consorsi per la gestione delle grandi roggi o dei grandi canali per esempio il canale della muzza che è uno dei canali centrali la nervatura centrale del sistema enriguo lodigiano quindi questi archivi di queste istituzioni hanno solitamente un corpus piuttosto consistente di carte relativamente a litigi o conflitti che sono litigi o conflitti legati alla gestione del loro patrimonio sono carte diciamo relative al fatto che queste istituzioni hanno di solito fatto un'istanza presso una magistratura locale un potestà locale piuttosto che centrale e quindi sono una parte del tutto questo è chiaro però hanno il vantaggio di essere qualcosa che può essere osservato con una sua regolarità nel tempo o comunque cercando di adottare un approccio seriale diciamo così a questo tipo di problema perché dicevo prima che è importante avere diversi casi per evitare di ovviamente entrare o rischiare di attribuire alla condizione di un singolo molto particolare un contesto più generale se noi osserviamo su un certo territorio diversi attori e osserviamo nel lungo periodo che ci sono per esempio dei picchi di conflittualità nei medesimi periodi o delle specifiche ragioni di conflittualità perché poi l'altra questione è quella di definire che tipo di conflitti sono conflitti per il possesso sono conflitti per l'abuso nell'utilizzo sono conflitti per la mancanza di manutenzione sono conflitti perché qualcuno non paga il dovuto per l'utilizzo di quella risorsa quindi si tratta anche di fare una valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa di questi conflitti e sì certo evidentemente anche la dinamica economica generale influisce su questo tema per esempio io ho visto nel caso specifico della Lombardia che ho studiato un'esplosione della conflittualità nel corso del Seicento e al contrario di quello che mi aspettavo questa esplosione della conflittualità per esempio è molto evidente nella prima metà del secolo quando c'è una minore pressione demografica dovuta alla peste manzoniana insomma e una analisi qualitativa di questi conflitti fa vedere che per esempio questa conflittualità è legata al fatto che c'è un abbandono da parte di diversi utenti dell'utilizzo delle acque o delle infrastrutture che utilizzavano e quindi c'è una sorta di negligenza nel attuare tutte quelle opere di manutenzione che erano necessarie per mantenere attiva la roggia e quindi magari diciamo la conflittualità non è una conflittualità legata all'abuso ma in questo caso alla negligenza di manutenzione che crea un problema a chi avalle utilizza quell'acqua e quindi diciamo e questo è solo un esempio ma diciamo per esempio anche il fatto che non so nel 600 ci sia quello che classicamente noi chiamiamo il ritorno alla terra quindi una nuova pressione sulle risorse della terra eccetera eccetera però certo in come dire in filigrana si possono intravedere le grandi dinamiche dietro questa cosa e la sfida è proprio questa cioè avere una come dire riuscire a fotografare una dinamica e poi però non fermarsi alla dinamica andare nel dettaglio per provare a vedere che cosa sta sotto questa dinamica se questa cosa si riesce a fare su diversi attori in diversi territori ci può permettere anche di provare a fare un ragionamento un pochino più ampio cioè a uscire diciamo dal caso locale per provare a non generalizzare le risposte ma a generalizzare i problemi e vedere se questi problemi sono in un certo qual modo generalizzabili ecco questo è un po' il senso della cosa non so se ho risposto alla tua domanda Katia credo tu hai risposto a due domande in una che Cinzia Lorandini nel frattempo aveva chiesto aveva una curiosità sullo studio dei conflitti cioè come segnare come segnare delle emerse dei problemi di sostenibilità quanto può essere rilevante misurare la dimensione del conflitto la rilevanza del conflitto in termini di numero di attori coinvolti natura della contesa e tipologia dei soggetti interessati però ha appena scritto che in parte hai risposto alla domanda non so se su questo vuoi aggiungere qualcosa anche in riferimento a quello che chiedeva e scriveva Cinzia Lorandini e poi invece c'è un'altra domanda che però nel caso ti leggo dopo sì diciamo molto rapidamente sì allora secondo me il vantaggio di costruire questa diciamo questo database questa parola non piace molto ma diciamo è l'unica che ho trovato per descrivere quello che vorrei fare è proprio questo cioè il fatto che permette veramente di poi interrogare la questione a diversi livelli e di provare a quantomeno incominciare ad approcciare ad un fenomeno che in parte sicuramente su cui in parte c'è già letteratura io non dico che nessuno lo abbia mai fatto non sto dicendo che nessuno ha mai studiato queste cose però ecco provare a farlo con questa prospettiva in modo sistematico e utilizzando appunto la chiave dei conflitti come l'elemento che può permettere di dare un pochino voce a quella pluralità si può essere utile e quindi sì certo ovviamente poi si tratterà di capire una volta ed è questo il problema più grosso che ho in questo momento una volta raccolte le informazioni come dare peso alle diverse informazioni come interpretarle cioè come riuscire ad andare oltre alla semplice ricostruzione quantitativa del fenomeno per invece entrare più nel dettaglio e quindi per esempio creare anche delle sottoclassificazioni dei conflitti per riuscire a osservare per esempio non so se emergono per uno scontro interno alla società se emergono per uno stimolo esogeno quindi esterno se quanti attori sono coinvolti eccetera eccetera questo è chiaro grazie prima di leggerti la domanda di Roberta mi veniva in mente riferimento all'aspetto che dicevi sull'anomalia del 600 visto che in prospettiva hai quella di avviare collaborazioni multidisciplinari nel campo dell'environmental humanities non so se questa anomalia può essere anche spiegata con la famosa crisi climatica della piccola era glaciale che ha avuto il suo picco proprio in quella fase lì prima ricordavi anche il dibattito sull'antropocene ora molti propongono come data proprio il 1610 come picco minimo insomma del raffreddamento di quella fase con tutta una serie di anomalie anche nell'andamento dei cicli dell'acqua dei fiumi alpini che sono state studiate in parte da Christian Rohr e da altri colleghi dell'Università di Berna che forse anche su questa fase possono avere spunti però non so se su questo aspetto avevi già iniziato a riflettere o avevi sì diciamo io su questo aspetto ho iniziato a riflettere e ho anche raccolto diciamo così dei dati a partire dai conflitti che osservo per esempio ho annotato tutti i casi che nei conflitti vengono citati di esondazione di queste rogge cioè di conflittualità legata al fatto che queste rogge sono esondate o hanno avuto problemi di piene particolari e in effetti si vede che proprio la fase di maggiore conflittualità coincide con il picco maggiore di presenza di queste esondazioni che poi queste esondazioni siano frutto della piccola era glaciale del cambiamento climatico in corso oppure di una negligenza nella gestione questo è un aspetto che va considerato però certo questa per il momento questa correlazione che non è per forza una causazione ma questa correlazione si vede e quindi sì sicuramente interessante e quando dicevo prima che bisogna che questo è un tema complesso e che quindi ha bisogno di un approccio complesso per studiarlo intendevo proprio questo cioè tutte queste cose che tu mi hai giustamente richiamato adesso sono cose che vanno tenute in considerazione e però sono cose che vanno tenute in considerazione diciamo certo leggendo certo mettendo a frutto le conoscenze degli altri ma anche provando a veramente a mettere insieme le competenze e a lavorare in sinergia perché perché diventa molto più fruttuoso il lavoro da questo punto di vista grazie passo anche alla domanda di Roberta che ringrazia per la presentazione avevo una domanda sulle potenzialità dello studio della sostenibilità in età moderna e cioè se può offrire riflessioni sul legame ambiente economia anche per la storia che forse la storia contemporanea non può offrire quindi si può offrire spunti anche per gli storici contemporanei e chiede erano in età moderna presenti più modelli economici che possono permettere di guardare alla sostenibilità non solo in tandem con lo sviluppo cioè per il grande tema appunto odierno dello sviluppo sostenibile può ripetermi solo quest'ultima domanda scusate perché ti ho perso all'inizio si chiede se erano presenti in età moderna più modelli economici alternativi mi pare di capire che possono permettere di guardare la sostenibilità non solo in relazione alla questione dello sviluppo cioè il grande binomio sviluppo sostenibile che oggi è molto popolare grazie mille per queste domande sono veramente estremamente stimolanti e io ribadisco quasi la mia come dire il fatto che esprimo come dire delle opinioni personali a partire dalla mia esperienza di ricerca ma alle volte mi sembra di dover rispondere a delle domande che sono più grandi di me e anche dalla mia ricerca però insomma cerco di rispondere per quello che posso per quello che posso fare per quello che credo riguardo alla ricerca che sto facendo le potenzialità secondo me sono tante e sono tante proprio per la ragione che dicevo prima cioè se noi prendiamo se noi prendiamo in considerazione il fatto che in questa tipologia di società c'è una forte dialettica tra locale e centrale c'è una forte evoluzione del modo attraverso il quale si osserva e si considera la natura e le sue risorse c'è una spinta come dire ci sono delle dinamiche demografiche differenti ci sono dei cambiamenti climatici in corso ci sono diciamo quindi una pluralità di fenomeni che sicuramente possono permetterci di osservare la questione e provare anche a offrire delle risposte o meglio a provare a porre dei problemi all'interpretazione della crisi ecologica attuale e quindi in generale agli altri periodi storici quindi diciamo più che dare soluzioni provare a porre dei nuovi problemi o dei nuovi modi di interrogare o di osservare il fenomeno riguardo al tema dei modelli economici sì certo insomma certamente anche perché anche qui utilizzando magari un'interpretazione che sicuramente può essere superata e se vogliamo da un certo punto di vista è stata anche sottoposta a dibattito molto serrato anche da parte degli storici economici certo insomma qui c'è il passaggio da una società prettamente da economie prettamente di villaggio basate quindi anche sul modello di sfruttamento delle risorse in buona parte collettivo al diffondersi soprattutto in queste campagne diciamo di cui mi sono occupato io adesso in modo precoce il cosiddetto protocapitalismo o capitalismo e quindi ci sono ovviamente dei modelli di sviluppo e di dei modelli economici differenti che hanno anche una prospettiva di sviluppo che secondo me non è una parola da demonizzare è differente è chiaro che la dinamica che ha in mente una società di villaggio un'economia di villaggio non è la dinamica che ha in mente il grande mercante che va a investire nella pianura lombarda comprando estensissime proprietà e facendole lavorare da un fittabile che paga un salario un affitto un affitto in denaro quindi sì certo da questo punto di vista se vogliamo anche in questo senso vista e considerata comunque la pluralità di modelli economici che noi abbiamo e che abbiamo nelle società attuali e ovviamente anche negli anni dell'età contemporanea e lo studio dell'età moderna può esserci utile per provare a porre dei problemi da discutere poi su archi cronologici differenti se non addirittura per i problemi che stiamo vivendo attualmente chiaro sì spero di aver risposto ovviamente grazie Matteo sì diciamo che hai cominciato a rispondere e le tue risposte hanno suscitato in noi altrettante domande che ci fanno venire voglia di continuare la discussione poi la domanda che ti ha fatto Roberta mostra chiaramente come la storia ambientale di fatto sia diciamo un campo di indagine che permette veramente un dialogo interessante di lungo periodo tra gli storici modernisti e i contemporaneisti perché poi diciamo i temi i strumenti di lavoro sono molto simili però le fonti da un lato le sensibilità le problematiche che avevano le società di antico regime ovviamente sono molto diverse da quelle dell'ottocento e ovviamente da quelle ancora più recenti per cui insomma lo spunto che ci dai tu oggi ci fa pensare che potremmo continuare a dialogare insieme che potremmo continuare a dialogare insieme